Carta bianca con Ron, di martedì con Varoufakis appuntamento questa sera con i due talk show condotti da Bianca Berlinguer e Giovanni Floris, rispettivamente in onda su Rai 3 e La 7. Ancora in attesa dell'incarico di governo, al centro dei programmi ci saranno gli scenari politici che si profilano dopo le elezioni del 4 marzo. Vediamo dunque quali saranno gli argomenti trattati e gli ospiti che animeranno la discussione in studio. Iniziamo da carta bianca, su Rai 3 e dalle 21.15. Bianca Berlinguer si occuperà appunto degli scenari post-voto, tra ipotesi di alleanze e le dichiarazioni d'intenti dei candidati premier. Con la legislatura prossima la scadenza ha infatti, in attesa della decisione del presidente della Repubblica Mattarella, le forze vincitrici rivendicano il diritto a governare, ma nessuna di esse ha i numeri per poterlo fare da sola. Si parlerà inoltre del summit dei leader del centro-destra e della direzione del Partito Democratico, dove si pensa una nuova guida dopo l'era Renzi. Passiamo ora agli ospiti. Prenderanno parte al dibattito, Mauro Corona, Andrea Orlando, Daniela Santanchè, Sergio Chiamparino, Domenico De Masi, Lucia Annunziata, Marcello Sorgi, Vittorio Zucconi, Maurizio Belchietro e, in rappresentanza del segmento spettacolare, il cantautore Ron. Spostiamoci adesso sulla 7, dove Giovanni Floris conduce di martedì, elezioni del 4 marzo argomento principe anche qui. A partire dalle 21.10, il giornalista si concentrerà sul prossimo governo, le ipotesi sulle coalizioni, le rivalità tra i leader politici. E ancora, le strategie del PD dopo le dimissioni del segretario Matteo Renzi, Forza Italia dopo il sorpasso di voti della Lega di Salvini sul partito di Silvio Berlusconi. Spazio poi all'economia, al dibattito sulle pensioni, all'approfondimento su cosa accadere per i risparmiatori qualora lo stallo politico si protraga. Quindi l'attualità, le rubriche su costume e società. Questi gli ospiti di Floris, Elsa Fornero, Yanis Varoufakis, Carlo Cottarelli, Michele Emiliano, Marco Damilano, Corrado Aujas, Salvo Sottile, Aldo Cazzullo, Alessandro Sallusti, Mario Giordano, Emiliana Alessandrucci ed Emanuela Bertucci. In copertina invece, il commento umoristico di Gene Gnocchi. I due programmi possono essere seguiti in streaming, rispettivamente su raiplay.it e la7.it. Commentare e direte su Twitter, GLI Hashtag Officially Sono GLI Omonimi. I due talk show inoltre, sono presenti anche su Facebook con un profilo ufficiale attraverso cui è possibile interagire con la redazione. Ciao!